un saluto da elena rogetto compravendite immobiliari che poi sono io oggi sono in compagnia di paola i marisio la mia home stager che si occupa di home staging una parolona che tutti quanti ultimamente si sentono probabilmente nelle orecchie ma esattamente in che cosa consiste lo chiedo a paola ciao elena ti ringrazio per avermi invitato qua con te è un piacere grazie allora non staging è una tecnica di marketing immobiliare che serve proprio valorizzare gli immobili in vendita o in locazione perfetto ma la domanda che ti faccio è questa tecnica può essere applicata ai mobili non abitati o anche abitati questa tecnica può essere tranquillamente utilizzata se in immobili abitati che in immobili in abitati disabitati chiaramente immagino che sia diverso il tipo di approccio e di lavoro che tu andrai a fare esattamente nell'immobile abitato l'intervento sarà più leggero in modo da non interferire con la vita di tutti i giorni delle persone che abitano l'immobile perché questa è un po la preoccupazione quando si parla di home staging subito si dice oddio ma io ci vivo e in casa come faccio come posso come creare poi dopo si fa una cosa il cliente ne vede un'altra ma non è propriamente così in realtà vengono valorizzati punti di forza dell'immobile e paola è in grado con la sua capacità tecnica e studio e sua professionalità di aggiungere quel tocco che permette ad ogni singolo immobile di diventare quella cosa bella che possa essere apprezzata dai più esatto esatto per quanto riguarda invece gli immobili immobili vuoti non abitati probabilmente meglio che rimangano arredati spesso uno li libera li svuota ma può essere controproducente giusto si dipende se l'immobile resta arredato si può tranquillamente fare un lavoro di allestimento utilizzando gli arredi che ci sono mentre nel caso di immobili completamente vuoti c'è la possibilità comunque di arredare con arredi in cartone che vengono poi arricchiti da tessili utilizzando poi anche nell'ambiente oggetti e complementi vari e quindi il lavoro sarà comunque un lavoro sempre efficace ed è sempre veramente molto personalizzato in base all'immobile che troviamo specificatamente per ogni immobile perfetto infatti ci sono stati dei prima e dei dopo che sicuramente possono meglio spiegare a livello visivo il risultato ottenuto e una cosa che posso aggiungere è che da quando io collaboro con paola gli immobili che sono stati allestiti curati da lei sono stati venduti in una settimana tre settimane un mese perché questa è la forza dell'home staging il fatto di poter trasmettere immediatamente l'emozione al cliente che ancor prima di venire a vedere la casa sa che è la casa che sta cercando quindi grazie paola grazie a te elena e spero a questo punto di poter portare ai nostri clienti le prossime nostre proposte certamente grazie mille a presto ciao ciao ciao